Come tutti voi credo che siamo impastati di formazione cristiano-cattolica, abbiamo forse qualche nozione in più su Giuda, meno su Devadatta e cercheremo di scoprire chi è questo discepolo che ha provocato divisione, anche lui con il maestro aveva tentato di ucciderlo ma non ci era riuscito. Ci sono delle suggestioni straordinarie che ci arrivano anche dalla letteratura, dalla musica, pensate io sono un boomer all'opera rock Jesus Christ Superstar del 1973 dove tra l'altro Giuda impersonato da un attore di colore viene inseguito dal rimorso che è un jet di guerra, un caccia nelle dune del deserto ed è di una drammatica attualità se vogliamo. Ma poi ci sono stati Amos Oz, Berto, Borges che ci hanno regalato delle riflessioni estremamente interessanti. Io però credo anche per poter entrare un po' nel clima vorrei chiedere a Elena Seyshin-Viviani di aiutarci a conoscere perché di questo si tratta la figura di Devadatta in questo modo anche interpretando un po' quella che è la finalità da sempre di Torino Spiritualità cioè di permetterci di conoscere anche le altre religioni, le altre forme di spiritualità e quindi arricchire in qualche modo la nostra cultura, la nostra conoscenza direi con un fortissimo anelito di pace che in questi giorni drammatici per quello che succede nel Medio Oriente sentiamo fortissimi. E allora proviamo a conoscere questa figura, chi era, che cosa ha combinato soprattutto? Sì un paio di considerazioni, buongiorno a tutti, benvenuti e grazie di essere qui a quest'ora abbastanza presto al mattino del sabato, quindi siete molto interessati a capire chi sono i discepoli sbagliati. Una piccola parentesi, purtroppo non abbiamo nella tradizione buddista un personaggio come Giuda perché Giuda è diventato poi una specie di star, infatti è scritto tantissimo su di lui, film eccetera, il magnifico Gesù che è il super star dove tutti abbiamo ammalato, Giuda perché è uno che viene condannato ad essere dannato per l'eternità solamente che è il nostro, la nostra diciamo simpatia e il nostro appoggio. Una prima considerazione, il titolo che è stato scelto di discepoli sbagliati è interessante ma dal punto di vista, mettiamolo in questo termine, dal punto di vista della tradizione buddista dire che uno è sbagliato francamente è un po' limitativo, cioè non c'è un discepolo sbagliato, ci sono uomini, donne che fanno un percorso e in questo percorso ci sono degli ostacoli, delle imperfezioni, delle difficoltà, quindi di certo di sbagliato non c'è nessuno perché se il discepolo è sbagliato allora vuol dire che anche c'è in qualche modo c'è qualche volto noto che tra l'altro saluto che è qui stamattina e che magari se poi vorrà intervenire mi farà molto piacere. Chi è Devadatta? Devadatta è cugino del Buddha, di Buddha Shakyamuni, è cugino di Buddha Shakyamuni e è stato ordinato, Monaco, insieme ad altri cinque membri della stessa tribù di provenienza del Buddha, dei Shakyamuni, e fa parte della comunità. Cosa succede? Che è molto interessante perché va contestualizzato il momento, quando succede la vicenda di Devadatta, succede quando Buddha ormai è abbastanza su cogli anni, è 72 anni, 8 anni prima della sua morte. Qual è il contesto? La comunità monastica diciamo si è ingrandita e ci sono molti giovani e i giovani non, il Buddha lamenta questo, le nuove generazioni sono un po' scarsine in quanto a seguire il maestro, nel senso che il Buddha stesso dice che la prima generazione, i primi monaci, bastava un comportamento a cui loro aderissero spontaneamente, cioè bastava che mi vedessero comportarsi e loro aderivano a questo comportamento virtuoso. I giovani sono un po' più, diciamo, fan fatica a seguire questa metodologia, quindi c'è una specie di, non voglio dire di declino, però un momento in cui la comunità non è omogenea, è già anche questo, quindi ci sono discepoli sbagliati, sì forse, però la situazione è questa. E' il passaggio generazionale. E' un passaggio, sì, passaggio generazionale, ahimè, sì, però appunto le nuove generazioni nascono in un altro momento, in un momento in cui l'imprinting è forse meno forte, quindi Devadatta, che è il cugino del Buddha, approfitta di questo momento per andare contro, per contestare e andare contro il Buddha e suggerire, udite udite, una maggiore austerità monastica. Allora, cioè critica di fatto il Buddha di essersi dato, diciamo, di avere abbracciato, diciamo, una vita più tranquilla, più facile. Tenete conto che il monachesimo buddista nasce come monaci itineranti e nella regola, diciamo, iniziale, i monaci non potevano, per esempio, dormire sotto lo stesso tetto per più di una notte. Avevano delle regole abbastanza severe, diciamo, non tanto ascetiche, perché Buddha di fatto non condivide questa visione eccessivamente ascetica del cugino. Perché Buddha, la sua vicenda nasce proprio dal rifiuto dell'ascetismo tukur. Quando va nella sua ricerca, diciamo, in direzione dell'ascetismo, Buddha si praticamente rischia di morire, quindi capisce che la mortificazione del corpo non è necessaria per il suo obiettivo. Quindi non è che Buddha si sia, diciamo, rammollito, mettiamola così, ma Buddha ha scelto un'altra via, quella che chiamiamo una via di mezzo, che è lontano dagli eccessi, sia dell'eccesso dell'ascesi che dall'altro, che è quello invece di seguire i piaceri dei sensi e quant'altro. Quindi Devadatta si pone come una specie di elemento restauratore, da un certo punto di vista, di un ascetismo che non è mai stato nelle corde del Buddha. Quindi cerca, tra l'altro, un alleato, perché è una storia anche politica, cerca un alleato con un principe, il principe Ajatasattu, che si macchierà di un grandissimo crimine, cioè ucciderà il proprio padre per salire al trono, adesso vi risparmio tutta la storia perché è piuttosto lunga. E per tre volte, comunque, anche in collaborazione con questo principe, attenta alla vita del Buddha. Ci sono tre episodi. Una prima volta manda dei soldati e il soldato che deve affrontare il Buddha, una volta che lo vede, si paralizza e quindi viene convertito, in qualche modo, dalla stessa presenza del Buddha a confessargli quello che stava facendo. Il Buddha lo salverà dicendogli, percorri un'altra strada, insomma, con un artificio in maniera di non essere ucciso a tua volta, perché questo era lo scopo poi di Devadatta, di eliminare tutti i testimoni dell'uccisione del Buddha, sapendo l'enormità di ciò che stava facendo. E quindi un primo tentativo va a vuoto, il secondo tentativo ancora gli viene fatta cadere una roccia in un percorso, durante un percorso che Buddha faceva spesso per carsi al picco dell'avvoltoio, un luogo dove predicava, viene gettata una roccia, Buddha si ferisce un piede ma rimane illeso. Terzo tentativo, gli viene mandato contro un elefante che aveva già ucciso un uomo, che era un elefante ormai fuori controllo. L'elefante vede Buddha, si ferma, si fa carezzare e poi lo indietreggia guardandolo ma non farà nulla. Quindi per tre volte Buddha scampa a questo tentativo di uccisione. In ogni caso la cosa interessante è questa, Devadatta non fa di nascosto tutte queste cose, nel senso che certo non va a dire al Buddha guarda che adesso ti uccido e verrai ucciso, però dichiara al Buddha quali sono le sue intenzioni. In un passo lui dirà esattamente, disse signore voi siete vecchio e stanco, siete un vecchio, avete vissuto la vostra età e siete alla fine della vita, compiacetevi di vivere d'ora in poi in questo mondo senza pesanti fardelli, affidatemi l'ordine dei monaci, lo guiderò io. Quindi dichiara apertamente quali sono le sue intenzioni al Buddha. Naturalmente l'ordine per la nostra tradizione, per la tradizione buddista, l'ordine, il Sangha, la comunità è uno dei tre gioielli, Buddha, Dharma, Sangha. La comunità è fondamentale e la comunità, come disse Thich Nhat Hanh, è il capolavoro, il Sangha è il capolavoro del Buddha. Quindi era molto 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 importante, Buddha non aveva nessuna intenzione di lasciare a più o meno a chi che sia la guida della comunità, ma lasciare che poi la comunità stessa si autoproclami un suo successore, una sua guida, che in genere sarà poi Makashapa, il suo primo discepolo, ma naturalmente perché era il più anziano e il più esperto. Quindi di fatto dichiara questa sua intenzione. Adesso vado a terminare. Cosa succede? Succede che alla fine, dopo nonostante i tre tentativi falliti, Devadatta si ritira in una, cioè riceve un monastero dal suo mentore, dal principe di cui ho parlato prima, dal suo mentore si ritira a fondo una comunità, una comunità che continuerà storicamente accertata, continuerà. Quindi è una specie di eresia all'interno della comunità monastica. Si dice che la sua fine sarà molto dolorosa, poi vi leggerò magari dopo un passo in cui poi Buddha dice perché la sua fine è dolorosa. Quindi lui dovrà soffrire sia la malattia che la morte, in termini si dice che viene inghiottito dalla terra, ritorna alla terra inghiottito, sparisce. Comunque il suo crimine di fatto è stato quello di aver voluto dividere la comunità monastica e questo era in assoluto uno dei crimini maggiori. ancora adesso nella tradizione buddista, chi porta disarmonia nella comunità è passibile di essere espulso o comunque di non essere accettato dalla comunità stessa. Grazie, era un tipino Devadatta, mi verrebbe da dire demoniaco, se intendiamo il demonio come colui che divide, no? Che porta disarmonie, ferite. È interessante questa riflessione perché Elena è monaco buddista, oltre che vicepresidente dell'Unione buddista italiana, anche padre Semeraro è monaco, Benedettino è priore all'abbazia di Novalesa, in Valle di Susa. A lui vorrei chiedere di entrare un po' nel personaggio Giuda. Abbiamo già detto tante cose, molti portano la riflessione sul fatto che, certo, con tutti i limiti della definizione, era un discepolo sbagliato ma necessario, cioè c'era bisogno di lui perché si compissero le scritture e diciamo la storia del Cristo andasse avanti come poi è andata. È davvero così? E soprattutto l'invettiva mi sembra riportata da Matteo, insomma che non doveva neanche nascere Giuda, è corretta? La dobbiamo interpretare così come un segno di maledizione? Oppure davvero c'era la necessità di avere un personaggio come Giuda nella storia della salvezza cristiana? Compito difficile. Prima di tutto penso che a nessuno piacerebbe far parte di una storia per creare problemi o per far portare a compimento una tragedia e un dramma. Chi di noi amerebbe questa, diciamo, questa sorte? Di fatto bisogna stare molto attenti a interpretare la scrittura, la tradizione in modo preciso, in modo anche, diciamo, adeguato a quello che è lo spirito anche della rilettura che i Vangeli fanno dell'esperienza di Gesù. La prima cosa che bisogna dire è questa, che non riguarda Giuda ma che riguarda Gesù. Il verbo, vabbè, al di là della nostra fede, io parlo come cristiano quindi non posso che parlare come cristiano, ma il verbo si è fatto carne, cioè per morire in croce o per annunciare al mondo la salvezza e l'amore di Dio? Gesù. Gesù non è venuto nel mondo per essere crocifisso, per essere malmenato. Quando Gesù si presenta a Nazareth con il suo discorso programmatico, Gesù è venuto a portare un annuncio di gioia. Di fatto Gesù non ha come fine quello di soffrire perché questo poi crea una spiritualità di mortificazione dolorista. L'idea è che non è che peggio stiamo e meglio è e chi ci fa stare peggio più bravo è, perché poi alla fine ci sono delle conseguenze molto banali. In realtà il Signore Gesù prende coscienza durante la sua missione delle conseguenze del suo annuncio di salvezza, di gioia, di vita, soprattutto di predilezione per i più piccoli, per i più poveri, per i più diseredati, che crea un conflitto con le autorità religiose e politiche e poi chiaramente porta le cose verso un'altra conclusione. Naturalmente Gesù quando comincia il suo ministero, anzi sicuramente non pensa alla croce, pensa a un cammino di evangelizzazione, evangelo. E dopo la morte del Battista che Gesù fa un ritiro, prende un momento di riflessione, va dai Gesuiti, fai il Mesegnaziano che lì ti mettono a posto subito, se fate il Mesegnaziano tutto si chiarisce, fai il Mesegnaziano un po' abbreviato e da lì comincia a dire ma le cose rischiano di andare molto male. Ed è qui che la figura di Giuda ci viene incontro, perché Giuda è uno dei discepoli che si è, diciamo così, messo alla sequela di Gesù per seguire Gesù e aiutare Gesù a portare un lieto annuncio, la libertà ai prigionieri, la salute ai malati, la vita a coloro che non ce l'hanno. E quando Gesù comincia a predicare, per intenderci, la croce, dice ma no, questo non va, anche perché il contratto non era questo, non ce l'avamo messi d'accordo su questo, noi ce l'avamo messi d'accordo su un altro tipo di operazione, cosa succede? E quindi è chiaro che Giuda rappresenta nel gruppo degli apostoli, così come ce lo narrano i Vangeli, la punta un po' anche di intelligenza, la letteratura ha ripreso questa intuizione e colui che nel gruppo degli apostoli tiene la cassa, quindi sa fare i conti, se sa fare i conti vuol dire che sa fare anche i conteggi, sa fare anche le proiezioni, sa vedere come le cose possono andare o meno ed è lui che cerca di salvare Gesù, di salvare Gesù da se stesso, da questa svolta che Gesù ha dopo la morte del Battista in cui capisce che l'annuncio del Vangelo deve essere pagato con la capacità di dare la vita per non entrare in compromesso con il potere religioso e politico. Quindi Giuda di fatto cerca di aiutare Gesù, lo mette in contatto, lui conosce i sacerdoti del Tempio, quando lo vende in realtà per i famosi 30 denari è perché conosce il funzionamento, sa come le cose vanno, vuole che Gesù arrivi al Tempio piuttosto che predicare come fa contro il Tempio e il Tempio. Perché non voglio prendere tutto il tempo, ma dunque la cosa però importante per me è che due cose voglio sottolineare. La prima, che la tradizione evangelica quando rilegge, naturalmente a cose fatte, quindi post Pasqua, quando rilegge il cammino di Gesù e dei suoi discepoli, in tutti e tre i sinottici, quindi c'è una convergenza rara, ogni volta che si fa l'elenco dei dodici apostoli, Giuda, che tra l'altro porta il nome di Giuda, la Giudea, quindi il nome emblematico e diciamo l'altro nome di Israele per i giudei, quindi il popolo di cui Gesù fa parte, Gesù è un giudeo, è un ebreo. Dunque tutti i racconti dell'elenco degli apostoli finiscono sempre così, è Giuda l'iscariota che poi lo tradì. Vole a dire, diciamo per tornare a quel cioè Elena, se c'è qualcuno che ha sbagliato a fare la scelta è Gesù, no? Perché è lui che sceglie gli apostoli? Luca dice che dopo una notte di preghiera Gesù chiama dodici e gli elege apostoli e la fine è sempre quella, è Giuda che poi lo tradì. Allora, o Gesù si è sbagliato, che è possibile, perché no? Oppure per andare al titolo, sottotitolo, gli apostoli sono tutti legni storti, non ce n'è uno che sia diritto. Pensate anche, noi abbiamo un po' idealizzato Giovanni, no? Che identifichiamo con il disceppo l'amato. Più storto di Giacomo e Giovanni non ne trovate, perché Giacomo e Giovanni sono come l'amico di cui ci parlava Elena, sono quelli che chiedono a Gesù di mettersi alla destra e alla sinistra e gli altri dieci dietro. E Gesù dice, oddio, cosa sta succedendo? Quindi di legni dritti, San Pietro quando apre bocca meglio che sia zitto però parla. E tutto il resto così, ok? Ma Giuda di fatto, questa finale dell'elenco, Giuda che poi lo tradì, ci dice che Gesù non ha voluto creare attorno a sé una comunità di perfetti, di immacolati, ma una comunità di uomini, di discepoli che attorno a lui dovevano essere il segno della possibilità di essere discepoli a partire da ciò che si è, a partire anche dalle proprie imperfezioni. Inciampo, quest'ultima parolina, in greco si dice scandalon, eh? Inciampo. È la pietruzza che mettete nella, che si trova nella scarpa che non ti permette. E ogni discepolo è di scandalo, soprattutto Giuda, perché Giuda è tra i discepoli colui che ha chiaro il progetto messianico, ha chiaro il progetto messianico che Gesù a un certo punto rivede e corregge a partire dalla sua esperienza. Quindi la Chiesa è nata storta. E questo ci dà anche molta speranza. E certo, perché adesso, adesso anche nella Chiesa andiamo a caccia di immacolati, ma non ce ne sono in giro, eh? Vi potete anche cercarli, anche in internet. Immacolati. Non esce niente. Esce solo un piccolo riferimento, un link all'immacolata concessione, ma non c'entra niente con tutto questo, eh? Immacolati. La Chiesa nasce come realtà, appunto, di un gruppo di discepoli attorno a Gesù che è una realtà di imperfezione, di fatica e la Chiesa nasce storta per essere al cuore dell'umanità il messaggio che al di là, anzi attraverso le imperfezioni, gli errori, gli inciampi, le complessità e le ambiguità è là che possiamo sperimentare la salvezza. E qui aggiungo una cosa e poi posso dare tutta la parola a Elena perché non ho molto da dire, perché quando Giuda alla fine del suo percorso appunto ha già venduto Gesù, l'ha venduto, cioè lui ha fatto di tutto perché si creasse una possibilità di incontro, Giuda dice meglio lo scontro che così, almeno vediamo cosa succede, ma Giuda ha sottovalutato il Tempio con la sua paura di perdere il potere. In questo Giuda è anche ingenuo, ama talmente Gesù e il suo progetto che a un certo punto non vede più la realtà, tanto che poverino dopo andrà a chiedere ai sacerdoti, vi ridò i soldi, ridatemi il maestro e dicono no caro, ormai le cose, noi abbiamo raggiunto noi il nostro obiettivo, non tu. E Giuda si uccide, poverino. Due cose e poi lascio la parola di Elena. Ma nel racconto della passione c'è un particolare meraviglioso, lo dico in termini banali così ci capiamo tutti. Il primo a ricevere la comunione è Giuda. È a Giuda che Gesù dà il primo boccone durante la cena. Prima che lui esca dal cenacolo gli dà questo boccone, è il boccone dell'amico, dell'ospite preferito e Giovanni dice preso il boccone uscì per fare quello che doveva fare, vai a fare quello che devi fare. Tutti avevano pensato che andasse a comprare qualcosa perché aveva la cassa e invece no. E dice Giovanni uscì ed era notte e Origene, il più grande commentatore delle scritture di tutti i tempi, commenta questo passaggio dicendo Giuda esce dal cenacolo con in mano o con nel suo corpo, nella sua bocca, questo frammento, questo boccone che è un raggio di luce che lui tiene dentro di sé e con cui si inabissa nella notte ma le tenebre non l'hanno vinta questa luce. Cioè Gesù dà a Giuda la garanzia di essere salvato perché Giuda ha fatto quello che ha potuto come tutti, come tutti noi. concludo dicendo questo poi l'arte, se voi andate a Veslè, la bellissima cattedrale romana che avete un capitello meraviglioso in cui il Signore è risorto al mattino di Pasqua, la prima cosa che fa va all'albero su cui Giuda si è impiccato e si mette Giuda sulle sue spalle come la famosa pecorella smarrita. Quindi attenzione e concludo. Giuda non è il dannato, Giuda è il traditore. Giuda è il discepolo deluso dal suo maestro che diventa traditore perché non comprende più il suo maestro ma nella tradizione, nelle scritture, nella tradizione, il maestro comprende fino in fondo la confusione del suo discepolo e non lo abbandona, lo salva permettendogli di essere quello che è senza impedirglielo. Quindi questo è un grande messaggio di speranza. Credo che sia molto interessante, padre Michael David, voglio però chiederti una cosa telegrafica corollario di questo, poi arriviamo in campo buddista naturalmente. Io sono un boomer e come tutti boomer sono stato educato a pane e sensi di colpa nella tradizione cristiana, ahimè. E quello che dicevi all'inizio e che ci hai detto alla fine però ci apre una prospettiva straordinariamente diversa rispetto a ciò che abitualmente sentiamo dire su Giuda. Dante lo ha piazzato nell'ultimo dei gironi a rosolare nel fuoco, a essere… Dante non è ispirato. No, ecco vabbè. Però… È un grande poeta. Il fatto di dire che c'è redenzione anche per Giuda è un cambiamento grande, cioè è la visione corretta. Ma nella tradizione della Chiesa non c'è nessuna persona, nessuno che sia stato canonizzato dannato, né Giuda né nessun altro. C'è la canonizzazione dei santi, speriamo che sia azzeccata, ma non c'è la canonizzazione dei dannati. Ma per andare ai testi, la prima volta che Pietro, quello che parla un po' a vanverata allora, ma dopo l'ascensione di Gesù, quando si ritrovano gli apostoli nel Cenacolo in attesa della Pentecoste, sapete un po' la sequenza, la prima volta che Pietro parla come Papa, per intenderci, prima che arrivi lo Spirito Santo nella Pentecoste, quindi non è neanche sotto l'azione dello Spirito Santo, è sotto l'azione della sua coscienza di fratello maggiore dei suoi fratelli apostoli, la prima cosa che affronta negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, è il problema di Giuda. Dice, uno di noi ha tradito Gesù, uno tra di noi deve prendere il suo posto per annunciare Gesù. La prima operazione, il primo atto ecclesiastico, motu proprio di Pietro è la sostituzione di Giuda. Cosa significa? Significa che in realtà, quando la Chiesa, la comunità si ritrova dopo l'ascensione, bisogna che Giuda non perda il suo posto e un altro prenda il suo posto per testimoniare che cosa? Che il Signore Gesù è capace di integrare tutte le strutture, persino il rinnegamento di Pietro, chi parla è proprio lui, e persino il tradimento di Giuda. A noi piace rendere le cose abbastanza, diciamo, tragiche e irrisolvibili, ma il messaggio che abbiamo dalla tradizione cristiana, dai Vangeli, è che non c'è nulla che non possa essere sanato e non possa essere salvato. E Giuda rappresenta proprio questo. Non so se ho risposto. Certo no, è molto molto interessante e allora vorrei chiedere a Elena di tornare, ecco, con la saggezza e la spiritualità buddista sulla figura di Devadatta. Tra l'altro, ne parlavamo in questi giorni, ci sono anche altri discepoli che insomma hanno un po' scarrucolato rispetto, diciamo… Anche qui in sala ce ne sono diversi, per quanto mi riguarda. Che cosa è accaduto? Ecco, nella tradizione buddista Devadatta ci avevi anticipato all'inizio che insomma anche lui non ha fatto una fine simpatica, però ecco, che insegnamento viene dato nella tradizione buddista di questa figura, di quell'episodio e soprattutto di come è andata a finire? Due cose, rispondo a due domande differenti. Rispondo prima al discorso dei discepoli cosiddetti sbagliati. Certo, il buddismo, il buddha dharma è una via di liberazione, da qualcosa ci si dovrà liberare, quindi da questo punto di vista tutti siamo sbagliati, tra virgolette, perché tutti siamo diciamo su un percorso di trasformazione, questo è il buddha dharma, trasformare la propria coscienza e andare verso il bene, perché comunque anche nella dicotomia bene e male il bene comunque è sempre una priorità. Comunque il bene vince, nel senso che il male è solamente un inciampo, in questo caso sì. Nel buddismo potrebbe dire il male è un inciampo, un ostacolo, è forse l'occasione che ci viene anche data a volte per andare più a fondo, per cogliere veramente il senso di un percorso spirituale. Dopodiché mi verrebbe da dire, come disse un amico francescano, santi non si nasce, santi si diventa, quindi abbiamo tutti la possibilità in tutte le tradizioni di ambire ad una vita diciamo santa, non necessariamente perché è costitutiva fin dalla nostra nascita, ma ciò che è più interessante è il fatto che procediamo verso, siamo un dinamismo verso il bene, questo è interessante. Discepoli sbagliati certo che ce ne sono stati, non ci siamo fatti mancare nulla neanche nella storia del buddha. Ananda il suo assistente, la persona che segue il buddha istante per istante, proprio in tutto e per tutto, è quello che per tre volte, giusto per dire tre volte è sempre un modo per essere assoluti sia nel negativo che nel positivo, per tre volte il buddha gli dirà guarda che io sto per entrare nel nirvana, cioè sto per andare verso l'amore, quindi per tre volte lo gli segnala che il suo tempo sta finito, ma Nanda non lo coglie, tant'è che poi quando poi buddha muore i suoi compagni insomma sono un pochettino arrabbiati con lui, ma lui non ha capito, non perché non è intelligente, non ha capito perché non ha ancora la visione corretta, la visione giusta, la visione della cosa, non ha ancora sperimentato lui stesso il risveglio, quindi non può capire anche lì, che cosa ci impedisce di ambire al risveglio, di arrivare al risveglio, evidentemente ci sono tante cose e condizioni, quindi non ci sono ancora le cause e le condizioni con il buddha ancora in vita perché lui quindi ha strettissimo contatto con il maestro, perché lui arrivi a realizzare il risveglio, quindi Ananda è uno per esempio, un laico, il fabbro kunda, il fabbro kunda, il figlio del fabbro kunda, colui che inviterà per quello che sarà l'ultima cena in qualche modo del buddha e gli servirà del cibo avariato. Buddha fa, quindi assolutamente con un'intenzione buona compie un atto che sarà quello poi che decreterà la morte del buddha fisicamente. È molto interessante come Buddha a mio avviso reagisce in tutti questi casi, anche con i cosiddetti discepoli sbagliato, allievo sbagliato. Buddha farà seppellire subito il cibo e poi dirà ai discepoli che si lamentavano della cattivazione del figlio del fabbro kunda, dirà kunda tu due pasti nella mia vita sono stati importanti. Uno è stato il pasto, è stato il latte che mi è stato offerto da una pastorella quando stava per morire proprio per l'ascettismo estremo a cui si era votato e che mi diede la possibilità poi di attingere, di arrivare al risveglio e questo è il tuo pasto perché questo mi darà la possibilità di entrare nel nirvana. Nella tradizione buddhista la parte, diciamo il risveglio è il momento iniziale ma la meta finale diciamo è il nirvana, quindi partiamo dal risveglio per arrivare là, partiamo da una presa di coscienza sulla realtà così com'è per poi arrivare a una pacificazione del cuore eccetera eccetera, adesso non voglio fare teologia, questa è la prima domanda sui discepoli sbagliati dopodiché la letteratura dei nostri tradizioni è molto ricca, nello zen poi abbiamo tanti tanti discepoli sbagliati ma il discepolo sbagliato è sempre quello che pone, diciamo non è mai appunto come, questo è molto interessante, non c'è una drammatizzazione, questo no, il discepolo sbagliato comunque il discepolo che non capisce, il discepolo che inciampa è considerato esemplare anche per gli altri, diventa caso esemplare perché rappresenta un difetto, rappresenta una attitudine che è comune anche agli altri, quindi in qualche modo sono i protagonisti poi delle storie veramente, delle storie diciamo, degli aneddoti relativi alle varie tradizioni. Allora, cosa interessante invece, perché devadatta? è che cosa ha compiuto devadatta di così diciamo sbagliato, apro e chiudo comunque una parentesi, il fatto che io non so quante persone qui dentro avessero mai conosciuto, conoscessero prima la storia di devadatta, credo molto poche, perché anche nel buddismo vi posso assicurare devadatta non è considerato, cioè non ha lo stesso peso, sì caratura di Giuda, beh anche perché Giuda manda, in qualche modo compie l'azione di Dio, Buddha non si presenta come un Dio, Buddha è un uomo che esprime, realizza la sua divinità, ma non è un Dio, non era così fin dall'inizio, quindi non c'è questo peso, forse c'è maggiore anche in qualche modo compassione anche verso devadatta perché è un uomo in mezzo agli uomini, Buddha è un uomo in mezzo agli uomini, che mostra quale sia il percorso, quale sia la strada, quale sia la, diciamo, la possibilità di trasformazione per tutti, quindi è un po' diverso, tant'è che voglio la letteratura, a parte che non essendo, voglio dire, molto, non siamo ancora diciamo ad un'internazionalizzazione delle, diciamo, una conoscenza delle tradizioni, conosciamo la nostra, forse a malapena, perché tutte le cose che Padre Semerario ci ha spiegato non so neanche quanti le conoscessero, la figura di Giuda resta per tutti noi nell'immaginario collettivo il traditore per Antonomasia, qualcuno che ha portato all'uccisione di Dio, quindi rimarrà, che ci piaccia o no, dannato per l'eternità, ma non per la visione evangelica, questo è molto interessante, quindi il mio è anche un invito un po' ad approfondire certe figure. Per quanto riguarda Devadatta, vi dico subito che viene salvato, perché nonostante faccia una fine, Buddha li predirà, dopo i primi tentativi di uccisione nei propri confronti, a Devadatta gli dirà sai attento perché ti procurerà dolore e poi la morte, e infatti Devadatta quando, dopo essere stato scoperto nei suoi tentativi, dopo essersi ritirato in questo monastero con i suoi seguaci, quindi qualcuno lo segue, sono i giovani, attenzione, quelli che non ha ancora praticato abbastanza. Quando si ritira in questo monastero, dove resterà, due discepoli, Buddha manda due discepoli, i suoi più anziani, tra i più anziani, Shariput e Mogallani, a convertire gli altri, a riportare a casa gli altri confratelli. E infatti lo faranno e Devadatta rimane da solo. La sua disperazione è talmente forte che si ammelerà potentemente e poi morirà. Quindi non c'è, diciamo, è vittima della sua stessa, della sua stessa azione, capite? Non è un'azione fatta direttamente da Buddha. Buddha non lo ferma nemmeno quando, pur sapendo che sta tramando contro di lui, pur sapendo perché Devadatta lo dichiara. Io voglio ritornare ad una forma di ascesi più austera. Buddha non lo ferma, quindi gli lascia compiere in qualche modo il suo destino, il suo karma, la sua azione. non può fare nulla, ma la cosa interessante è questa, che nell'ultimo, in uno dei capitoli del Sutra del Loto, che è un Sutra comune a tutte le tradizioni buddiste, Sutra vuol dire un insegnamento, parla della storia del Buddha, si riprende la figura di Devadatta e vi leggo lo sì, Devadatta viene in qualche modo salvato. Scusate, è un breve brano ma è interessante. Viene salvato perché parla, Buddha parla di un re, ecco qua, per innumerevoli secoli nel passato ho ricercato il Sutra del Loto senza mai recedere. Durante questi periodi sono appasso costantemente come un sovrano che faceva voto di ricercare la suprema risveglio, la suprema body vuol dire, il supremo risveglio. La mente di questo sovrano, che è Buddha che parla, dice io ero un sovrano, la mia mente non vacillava, mai ne si lasciava sviare. Spinto dal desiderio di adempiere le sei perfezioni, questo sovrano si dedicava alla pratica dell'offerta senza mai risparmiarsi, sia che donasse elefanti o cavalli, eccetera, eccetera. Non lesinava neppure il proprio essere e la propria vita. A quel tempo la vita umana era estremamente lunga, ma per amore della legge questo re abbandonò il regno, il trono, affidò il governo al principe e emise proclami alla ricerca della legge nelle quattro direzioni. Cioè la storia è, questo re, che in persona il Buddha in un'epoca passata, ero dedito alla pratica, quindi era un devoto discepolo e proclama la ricerca del Sutra del Loto, della legge, della pura legge del Buddha Dharma. Chi può spiegarmi il grande veicolo? Io mi prenderò cura di lui e finché vivrò sarà il suo servitore. A quel tempo si rea, quindi la storia narra che un veggente si reca dal re, Ashita, e gli proclama le Sutra del Loto. Appena abbia udito queste parole del veggente il re si misa a danzare dalla gioia, si accompagnò a lui provvedendo a tutto ciò di cui aveva bisogno, raccoglieva frutta, attingeva acqua, cioè si occupa di lui in tutto e per tutto. Per amore della legge gli servì in questo modo il veggente per mille anni, lavorando instaccabilmente e prendendosi cura del veggente affinché non gli mancasse nulla. Chi era questo veggente? Devadatta in una sua precedente manifestazione. Quindi Buddha dice, Buddha sta parlando davanti alla sua assemblea e in questo capitolo dirà a chi lo ascolta, Devadatta può realizzare Anuttara Sammakusan Bodhi che vuol dire il supremo risveglio. Quindi anche chi, questo perché il malvagio diciamo non viene solo penalizzato, mi risulta che Cristo sulla croce al brigante abbia detto la tua parola tu sei con me nel mio regno, al peggiore. Quindi le tradizioni religiose sono fatte, mettiamoci il cuore in pace, per i peggiori non per i migliori. Quindi i peggiori possono assumere, possono entrare poi nel paradiso. Così Devadatta e Devadatta potrà diventare anche egli irrisvegliato, quindi praticare per l'eternità il percorso del Buddha, pur avendo compiuto un'azione come quella di sovvertire l'ordine e di cercare di uccidere il Buddha, ma ancora più di sovvertire l'ordine monastico. Anche a lui è dato, quindi nessuno è colpevolizzato nemmeno per un'azione tanto esecrabile. Avremo bisogno di una settimana residenziale per approfondire bene tutti questi temi. Vi ricordo però, ed è un buono strumento che Torino Spiritualità mette a disposizione del pubblico, che a partire dai prossimi giorni sarà disponibile sul sito anche la registrazione di questo e di altri incontri, per chi volesse riprendere in mano alcuni concetti. Vorrei porre adesso entrambi, ma a partire da Fratelli Micael Davide, una considerazione che è questa. Mi ha colpito, nel 2007 è uscito un album introspettivo di Antonello Venditti, che è un cantautore italiano, Dalla pelle al cuore, dove c'è un brano che si intitola Giuda e lui si mette nelle parti di Giuda, ed è un brano un po' tormentato, intenso, spero sulla solitudine. Allora io mi domando e vi domando se la vicenda di Giuda e di Devadatta, per come voi ce l'avete raccontata, è anche un modo per ragionare sulle relazioni e il conflitto. Oggi noi viviamo di relazioni malate, non sappiamo gestire i conflitti. Nelle vicende di questi discepoli sbagliati c'è anche un insegnamento su come vanno gestite le relazioni, che sono poi relazioni affettive, relazioni d'amore e il conflitto, a vostro avviso naturalmente. Trasformo la tua domanda e mi pongo questa. Come ha potuto il Signore Gesù sostenere tutto questo? Fino a chiamare Giuda nel momento in cui arriva nel Gezzemani per consegnarlo, non per tradirlo, per consegnarlo, paradidomi, per consegnarlo. Il tradimento viene proprio dal verbo consegnare. Infatti sarebbe colui che lo consegnò. Di fatto è come se Giuda alla fine dall'ultima spinta. Ma Gesù è là. Come ha potuto Gesù chiamare Giuda che arriva nel Gezzemani amico? Con un bacio mi consegni. Ma lo chiama amico. Amico. E di fatto Giuda, e questo fa parte anche dell'arte, Giuda consegna Gesù con un bacio, quindi con un gesto di intimità. Nessun altro bacia Gesù se non la donna, la donna che bacia i piedi. Quindi nessun altro ha questo livello di intimità. Persino il discepolo amato si pone sul petto di Gesù, ma non lo bacia. L'unico a baciare Gesù, poi non sappiamo la vita privata di Gesù per carità, però di quello che noi sappiamo, l'unico a baciare Gesù è Giuda, che Gesù chiama nel momento dell'attradimento, consegna, amico, amice. Ma è qui il problema, o meglio, il messaggio. Perché il nemico è il più grande sacramento di amicizia. Perché il nemico è colui che ci permette, è l'ombra che ci permette di vedere la luce. Soprattutto perché Gesù è stato capace di portare fino in fondo tutto questo, fino a dire poi al ladrone, oggi sarai con me in paradiso, quindi un altro scelerato. Ma quello era abituato a rubare, ha rubato fino all'ultimo. Quindi ha rubato anche la salvezza, dice Agostino. Abituato a rubare, ha rubato fino all'ultimo momento. Ma Gesù si è fatto derubare. Perché per citare un verso magnifico di Rilke, noi siamo solitudine. E di fatto è questa capacità, questa identificazione, direbbe Jung, questa individuazione radicale di Gesù che gli permette di vivere il nemico come alteram partem, come qualcuno che mi permette di venire, di far venire alla luce la mia identità più profonda, il mio desiderio più profondo. Perché è solo nel contrasto che noi possiamo manifestare la verità di noi stessi. Di fatto sembra dirci il Vangelo che Gesù è grato a Giuda, non per averlo consegnato, tradito, eccetera, ma per avergli permesso di manifestare la sua identità profonda. il suo legame con il Padre e il fatto di essere capace di portare a compimento la sua missione fino a lasciarsi uccidere per non venire meno alla proclamazione che l'amore non si vince. Quindi come Gesù ha potuto? Di fatto perché Gesù è capace di questa solitudine che Giuda dovrà imparare. Infatti cosa fa Giuda dopo? ritorna dai sacerdoti per cercare un appiglio e viene rimandato alla sua solitudine che di fatto Giuda non sopporta tanto che si uccide. Questo viene narrato. Si uccide ma non viene abbandonato perché come ho detto prima Giuda di fatto è il primo dei discepoli a morire. Giuda muore contemporaneamente al suo maestro lo stesso giorno stando alla cronologia. Gli altri devono aspettare tutti un pochetto. e attenzione Giuda è il discepolo che a un certo punto vive drammaticamente tragicamente il compimento al contrario di ciò che vive il suo maestro ma normalmente il contrario ci permette è come un tappeto ci permette di vedere poi l'altra faccia perché di fatto si potrebbe dire così Giuda ricorda ad ogni uomo soprattutto ad ogni discepolo che il entrare nella logica del dono di sé la logica del Vangelo è un'operazione pericolosa e non è scontata ci si può perdere bisogna mettere in conto il fallimento di fatto la croce e concludo noi ci facciamo tante volte il segno di croce chi lo fa ma dimentichiamo che la croce ci rimanda al fallimento perché la croce è il fallimento messianico di Gesù che Giuda ha cercato di evitare e cercando di evitare questo fallimento ha fallito ma tra due falliti ci si ritrova sempre che bello grazie e l'angolazione grazie davvero l'angolo di visuale buddista su questi aspetti qual è? ma prima una considerazione ascoltando Padre Semeraro pensavo che veramente dipende da come viene narrata una storia semplicemente quello perché è chiaro che possiamo dare tante interpretazioni qual è però da quello che l'ha detto l'interpretazione che emerge il bene vince sempre questo è la cosa più importante l'atto di fede per antonomasia quindi da un certo punto di vista Giuda devadatta sono da un certo punto di vista entrambi uomini di fede sono uomini su un percorso discepoli sbagliati legni storti sì sì dopo di che tutti i discepoli erano legni storti insomma non è sì poi dopo non me la ricordavo esattamente così mi ricordavano delle persone che hanno lasciato questo sì legni storti forse anche perché hanno lasciato delle condizioni le loro condizioni originali per poter seguire questa è una dimensione molto importante e il seguire include anche la possibilità dell'errore l'inciampo perché devi fare i conti con quello che sei quindi devi trasformarti ecco perché dicevo prima un percorso di trasformazione è l'attivazione di un percorso di trasformazione della coscienza quindi per esempio devadatta qual è l'errore grosso di devadatta che fa che è un errore che potremmo fare tutti quelli a un certo punto di considerarci nel suo caso simile al Buddha fa un'operazione di questo tipo quindi c'è il peccato da un certo punto di vista dell'autoreferenzialità nel buddismo non si parla tanto di peccato ma si parla di ignoranza di mancanza di visione quindi non si demonizza nessuno perché siamo tutti nella stessa diciamo nella stessa barca e a seconda anche del livello evolutivo in cui siamo naturalmente voglio dire a seconda del livello di comprensione che abbiamo realizzato potremmo indirizzarci in maniera più spedita o meno spedita verso il bene quello che la cosa interessante della storia di devadatta è che diventa perché appunto non essendo un traditore nel senso proprio che appunto ha messo a morte il proprio maestro e Dio non è un caso che si chiama Giuda Giudea e ci dovrebbe dire anche qualche cosa del tipo di operazioni che si possono fare poi storicamente devadatta è l'esempio di come può virare l'attitudine dell'essere umano come può virare perché devadatta alla fine fa sbaglia per stupidità sbaglia per ignoranza vorrei leggervi un testo visto che questi sono testi poco conosciuti in cui Buddha spiega le tre ragioni per cui devadatta andò sui piani della miseria i monaci come devadatta la cui mente sopraffatta e ossessionata da tre tipi di malvagità andranno inevitabilmente nel piano della miseria all'inferno quali sono i tre monaci con la mente sopraffatta e ossessionata da desideri malvagi devadatta andrà inevitabilmente sul piano della miseria all'inferno monaci devadatta andrà inevitabilmente all'inferno sebbene ci fosse molto da ottenere smise di praticare dopo aver ottenuto un conseguimento minore di jana jana è una diciamo uno stadio della meditazione cosa sta dicendo Buddha devadatta si è fermato prima non ha avuto il coraggio di continuare nella pratica nello studio disse monaci con la mente sopraffatta e ossessionata da tre tipi di malvegità devadatta andrà inevitabilmente nel piano della miseria lo ripete lo reitera questo va sul piano che cosa porta miseria che cosa ci porta nel deserto perché devadatta un tempo era considerato un monaco saggio con una mente ben sviluppata fu onorato dagli ate ed ebbe grande fama in questo senso non siamo molto distanti perché anche Giuda come ci ha fatto capire padre Semeraro era tenuto in alta considerazione da Gesù e anche dagli altri discepoli era quello più intelligente spesso succede così beati puri di spirito cioè non è detto che il regno dei cieli sia aperto agli intelligenti siano aperti da chi umilmente abbandona apre le braccia e si dona il discorso del donarsi in questo caso alla pratica devadatta non lo fa però era un monaco dalla mente mi è sviluppata cosa ci sta dicendo il Buddha attenzione l'arroganza che è un grande veleno l'arroganza di cui si macchia di fatto devadatta è qualcosa che è sempre in è sempre diciamo in attesa è sulla nostra spalla ci vuole nulla in fondo il peccato mortale è quello di farsi uguali a Dio no? l'autoreferenzialità alla fine l'arroganza è questo questo e Buddha dice quando qualcuno complotta contro una persona dalla mente pura che non commette azioni malvagie il male tocca la persona stessa colui che è rispettosamente corrotta cioè sta dicendo che il male naturalmente si rivolgerà verso chi l'ha compiuto per primo se uno volesse inquinare il grande oceano con un vaso di veleno non ci riuscirebbe perché la massa dell'acqua è grande qui invece cosa sta dicendo sta in qualche modo Buddha sta dando la priorità e il ruolo principale al bene il bene non può essere inquinato quindi è come lo paragona al grande oceano che se in cui anche se viene versato del veleno non cambia la sua costituzione chi così è con chi cerca di attaccare abusivamente il Tathagata è un epiteto del Buddha vuol dire il Buddha che ha raggiunto la perfezione vive con una mente costantemente pacifica l'abuso non ha alcun effetto sul Buddha si dovrebbe fare amicizia e associarsi con un monaco saggio che ha seguito il percorso del Buddha e raggiunto la fine della sofferenza questi sono quindi Buddha esprime quelli che sono i difetti i difetti che ci possono creare l'inciampo l'ostacolo e dice attenzione però ci dà anche la visione diciamo la prospettiva di totale ampiezza che il bene non potrà non essere raggiunto perché il bene comunque ha la sua potenza rispetto al male il male diventa come ecco perché è il caso di Giuda se dovessi vederlo con un occhio buddista che potrebbe essere interessante Giuda diventa lo strumento dell'affermazione del bene comunque e lui stesso in quanto tale diventa un mezzo abile diremmo nel buddismo qualcuno che addirittura forse il migliore perché accetta perfino voglio dire accetta accoglie in sé questo destino tremendo che è quello di tradire il suo maestro di portarlo alla morte un'azione penso tra le peggiori che possono esserci ma diventa alleato del maestro stesso e del Dio vivente credo che questo sia interessante quindi discepoli sbagliati chi? il tempo è volato non ce ne siamo accorti dobbiamo concludere take away mi verrebbe da dire che cosa ci portiamo a casa tante cose ai nostri due amici vorrei chiedere ecco telegraficamente che cosa si portano a casa come perla uno dell'altra pensando anche consentitemi questo all'impatto civile civico delle riflessioni che abbiamo fatto oggi in un tempo in cui lo vediamo ascoltando i GR o i telegiornali siamo leggendi giornali chi ancora li legge siamo come dire un po' oppressi schiacciati da questo clima di guerra dalle raffiche di omicidi della vita quotidiana che si susseguono in questo terribile 2024 e allora vi chiedo che perla vi portate a casa da questo incontro l'uno dall'altra a me piacerebbe chiederle le persone che sono qua che perle si portano a casa personalmente spero che quantomeno l'idea che si debbano approfondire la conoscenza delle tradizioni religiose perché ogni tradizione religiosa ha delle perle enormi che può offrire a chiunque al di là del proprio credo e quindi sicuramente un'apertura verso l'altro totale dopodiché personalmente non sono per le ricette facili da diciamo da mulino bianco quindi questo 2024 è la storia del genere umano siamo questa cosa siamo anche bruttura siamo anche tradimento siamo anche questo dobbiamo farcene carico e non pensare che sono gli altri e l'altro attribuire sempre all'altro la responsabilità ecco io penso che in questo caso forse se dovessi metterlo su un piano proprio così sociale penso la presa di responsabilità delle proprie azioni del proprio fare non solo all'interno di una tradizione religiosa ma anche nella nostra nella società quindi per come buddista dico spero che si colga il valore dell'essere tutti come diceva il grande Thich Nhat Han interdipendenti interconnessi c'è un interessere non possiamo pensareci in termini di io se non accettiamo naturalmente il tu che non è un'altra forma di palesarsi di questo io alla fine padre Semeraro grazie grazie Elena per il confronto così l'ascolto di Elena direi che la bella notizia è che tutto il mondo è paese quindi ci sono non ci sono non ci sono situazioni più gravi siamo tutti appunto legati alla complessità l'ambiguità la storia la vita è fatta anche di queste ombre che in realtà permettono alla luce poi di manifestarsi appunto nella profondità della terza dimensione e poi diciamo come diciamo sul tema dei discepoli imperfetti errati sbagliati eccetera ma vi lascio citando il titolo di un libro che ho scritto quindi è un po' un'autocitazione pensando a questi personaggi direi che la sfida per ciascuno di noi e per tutti è non perfetti ma felici nel senso che è solo nella misura in cui l'imperfezione l'errore l'inciampo che già possiamo vedere in esperienze che ci hanno preceduto non rende impossibile l'eudaimonia in greco cioè di arrivare a un equilibrio a un'armonia che passa attraverso l'integrazione e non l'immaginaria esclusione anche del difetto del resto un'opera d'arte si riconosce dal difetto no le cose fatte in serie non sono difettose grazie fratello Michel Davide grazie ho anche una citazione mi è venuta in mente adesso una citazione giapponese che dice la perfezione è un fiore che non esiste ma impiegherò tutta la mia vita per raggiungerlo quindi cos'è la cosa importante non l'ottenimento di quello forse anche il bene supremo ma la mio esserci nel praticare nel raggiungere quella perfezione come dire viviamo con speranza il fatto di essere legni storti con questo ci lasciamo grazie e buon proseguimento di giornata ci sono anche dei libri fuori che possono aiutare la riflessione buon proseguimento a tutti e buon proseguimento a tutti